buongiorno ragazze oggi voglio fare un secondo ingredienti salsicce uva e vino bianco si può fare anche con l'uva l'uva nera con l'uva nera mettiamo il vino rosso facciamo riscaldare una padella e andiamo a mettere le nostre salsicce e mettiamo il coperchio intanto le nostre salsicce stanno rosolando le girate stesse in prodotti lati e questo punto mettiamo è arrivato il momento di mettere le nostre abbassiamo un po e lasciamo andare così tempo 5 minuti aggiungiamo anche il mezzo bicchiere di vino bianco e copriamo e come cominciano a disfarsi gli acini dell'uva e continuiamo fino a quando in tutto il sughetto non non viene ritirato non si ritira